ciao amici sapete qual è il modo più facile per depurarsi dalle tossine una di quelle pratiche esotiche stravaganti non proprio è mangiare se il cibo sbagliato è il primo responsabile delle tossine all'interno del corpo il cibo giusto sarà l'alleato numero uno per fare detox e depurarci se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video a sostegno di questa tesi c'è lo studio di una vita del dottor mark hayman direttore del cleveland clinic center for functional medicine e autore di diversi libri anche io lo sostengo da 25 anni come naturopata e ho aiutato centinaia di persone a fare detox mangiando i cibi giusti ecco come potete farlo anche voi con l'aiuto della scienza colazione stop a brioche merendine piene di zuccheri e anche al caffè niente caffè e chi ce la fa a partire ecco il mio segreto bevete acqua calda e limone come spiego in questo video e il caffè non servirà più spuntino si può bere una spremuta o un frullato detox bene arancia pompelmo kiwi e verdure verdi pranzo verdure in quantità cotte crude con pane pasta o cereali ma tutto integrale spuntino ancora spremute fatte in casa e frullati detox con un po di frutta secca cena zuppe e vellutate di verdure con legumi e frutta di stagione bene le mele dall'effetto chelante in grado di depurare dai metalli pesanti mi sembra facile sì lo è la cosa importante è evitare cibi confezionati ricchi di sostanze chimiche che intossicano il corpo e rallentano il metabolismo se volete vedere altri consigli detox potete guardare i video in questa playlist per seguire tutte le nuove uscite iscrivetevi al canale è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto mangia sano e vivi meglio